C'è una sottilissima linea di confine tra vendetta e giustizia. La vendetta è un sentimento umano, quel sentimento per cui se subiamo un torto, e come se lo abbiamo subito, siamo portati a desiderare che chi ha commesso quel torto nei nostri confronti paghi. Poi c'è la giustizia, che dovrebbe portare ad inquadrare le vere colpe. Ma tra i due aspetti la linea di confine è sottilissima. Per dirla in breve è proprio su questa sottile linea di confine che stanno giocando. Perché quello di cui stiamo parlando oggi è uno dei periodi più bui che abbiamo vissuto, dando vita a tutta una serie di sentimenti su cui è facile ancora giocare ed è facile ancora prenderci in giro. Stiamo parlando ovviamente dell'inchiesta su quella pagina nera della nostra nazione che furono i carri di Bergamo. Inchiesta che ha portato a 20 indagati, tra cui nomi eccellenti come Giuseppe Conte, Roberto Speranza, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e l'ex assessore della sanità Giulio Gallera. Un'inchiesta che dovrebbe essere un modo per fare chiarezza sulle responsabilità di quella tragedia. Dare una risposta su quei camion militari che portavano via le salme. Dare risposte sulla conta dei morti che in quei giorni erano paragonabili a un bollettino di guerra. Un'immagine tra l'altro che ha segnato moltissimo quel periodo e che ha contribuito enormemente, questo va detto, a costruire un clima di terrore, che si è sviluppato poi come un odio legalizzato nei confronti di una minoranza del paese. Ecco, quella che dovrebbe essere invece la ricerca di giustizia per quella immagine e quindi per le vittime, per i parenti delle vittime, per una nazione intera che meriterebbe chiarezza su quello che è realmente successo in quegli anni, si sta in realtà definendo come una gigantesca farsa giudiziaria. E si gioca enormemente su quella linea di confine tra vendetta e giustizia. Perché questi pensano che per cibare la sede di vendetta noi possiamo accontentarci di una giustizia monca o, peggio ancora, finta. Le accuse che pendono sui personaggi in questione sono infatti talmente tanto decentrate che porteranno il processo a risolversi in un'enorme bolla di sapone. A cominciare dall'accusa, che è già un paradosso di per sé. Perché tradotto in parole povere, quello che gli si sta contestando è il fatto che non abbiano chiuso abbastanza. Tutto ruota infatti intorno alla zona rossa. Punto di partenza per cui queste morti sarebbero state evitabili se si fosse chiuso di più e prima. Dopo tre anni che questo sia il punto di partenza all'amaro sapore di un'enorme presa in giro. Perché una delle questioni più spinose sono state proprio le chiusure illogiche che non solo hanno sovvertito qualunque ordine democratico, ma per di più non hanno portato a nessun risultato concreto. C'è il rischio quindi che qualcuno assetato dalla vendetta possa dar per buono questo principio di partenza e nella volontà di vederli pagare ammettere implicitamente che ogni critica alle chiusure illogiche sia stata completamente immotivata. Ammettendo di conseguenza che quindi si sarebbe dovuto chiudere di più e prima. Quindi già non stiamo partendo proprio bene perché tutto rischia di prendere il sapore di un'enorme supercazzola. Il secondo punto è che queste accuse risultano totalmente paradossali. Perché i reati che vengono contestati sono quelli di omicidio ed epidemia colposa. E allora mi balza la mente un ricordo. Perché mi ricordo che in contemporanea a questi eventi c'era qualcuno che a mezzo propaganda diceva che bisognava stare tranquilli, che era tutto a posto. Mi ricordo che fino a giorni prima si facevano aperitivi a navigli e si diceva che i casi erano pochi, che era praticamente impossibile. Gente che si mangiava gli involtini primavera in televisione, gli abbraccia un cinese, chi insultava chiunque si stesse minimamente preoccupando. Persino il presidente della repubblica Mattarella andava a trovare una classe di cinesi a Roma per dare messaggi di inclusione a livello di facciata. Ma in realtà messaggi molto chiari a livello propagandistico. E il messaggio era che dovevamo stare tranquilli, che era tutto a posto, che loro erano pronti ad affrontarlo il problema. E allora mi viene il dubbio che le due cose non possono andare pari passo. Che allora ci sia stata come minimo una corresponsabilità nella sottovalutazione del problema. Per cui un processo per non aver messo in zona rossa in determinati tempi entra in contraddizione con questi atteggiamenti che venivano divulgati. Ma siccome far notare questo significherebbe far crollare l'intera politica, allora capite da voi perché questo processo sarà una farsa. Perché giustizia significa puntare il dito nella giusta direzione. Sulla democrazia calpestata, sui diritti negati, sui danni fatti all'economia e ai lavoratori. Voglio sapere che fino hanno fatto gli 11 milioni di mascherine di zingaretti, i ventilatori flop di arcuri costati 10.000 euro l'uno, rimasti poi in deposito ma acquistati per fare il favore a chi. Voglio sapere dei banchi a rotelle. Ve l'ho ricordato ad esempio Fabio Soldatic? Quello che gridava nel nome della legge disperdetevi mentre caricava idranti sui portuali di Trieste seduti a terra in modo pacifico? Sappiate che settimana scorsa è stato promosso a primo dirigente della polizia di stato. Voglio sapere dei finanziamenti ai giornali in quel periodo. Giornali che fomentavano un odio sociale legalizzato, che permettevano di fomentare odio, violenza, di imbastardire il dibattito. Un dibattito tra l'altro che tutt'oggi è imbastardito. Quando dicevano che avrebbero reso la vita impossibile ad una specifica categoria? E sono talmente tanto altre le cose che voglio sapere che racchiuderle tutte in un video è impossibile. Talmente tante che io in quegli anni ho perso ogni fiducia per il genere umano. Sono moltissime le cose per cui vorrei che pagassero. Ma non vorrei che qualcuno stia giocando su questo confine tra vendetta e giustizia. Non vorrei che qualcuno pensasse che pur di vederli pagare ci possiamo accontentare di un processo farsa, con accuse traballanti, facilmente smontabili che poi invalideranno tutto il processo. Un processo che punta in una specifica direzione ma omette le corresponsabilità politiche che avvenivano in contemporanea e che questo processo possa essere interpretato come un modo per tener buoni, dare il contentino per le discriminazioni subite in quei due anni e, peggio ancora, dando il contentino ai parenti delle vittime di Bergamo, fingendo la presenza di una giustizia che non c'è stata due anni fa e non c'è oggi. Con un processo che plaga la sete di vendetta di qualcuno ma che tiene lontanissima la giustizia. Quindi a tutti quelli che stanno festeggiando vi prego ragionate, perché stanno facendo finta di darvi giustizia, ma in realtà va accorgerete presto che è l'ennesima presa in giro. Se il video ti è piaciuto iscriviti al mio canale YouTube e agli altri indirizzi social che trovi qui, se poi vuoi sostenere il progetto Pabble, un semplice caffè o una piccola donazione al link Apple che trovi qui sotto. Ciao e a presto! Grazie a tutti!